Alan Cassol, figlio di Albano Cassol, il rapinatore ucciso a Ponte di Nanto dal benzinaio Graziano Stacchio durante l'assalto alla gioielleria Zancan, è stato arrestato oggi a Iesolo per il furto di una moto. Alan Cassol era già stato arrestato dai carabinieri il 30 marzo dello scorso anno insieme ad altri sei giovani giostrai. La banda, di cui Cassol era considerato il capo, era specializzata nei colpi alle sale con slot machine. Bassano, sono arrivate le condanne per la cosiddetta banda degli orafi. 20 anni di reclusione per Massimo Nalesso, 10 per il suo complice, Cristian Baldan, entrambi di Fiesso d'Artico. I due sono stati giudicati responsabili di quattro colpi nel Vicentino. Tra questi anche i colpi Laboratoria Ora Figgiante di Bassano e Legor Group di Bressanvido, per un bottino complessivo di oltre un milione di euro. Tiene contro l'antidroga l'istituto Ceccato, dove da tempo la dirigenza aveva segnalato alla polizia locale nel nord-est vicentino la presenza di presunti spacciatori e consumatori di stupefacenti nella zona rettrostante La Palestra. Ieri gli agenti hanno trovato tre ragazzi, un maggiorenne di nazionalità russa e due minorenni, un ragazzo albanese e una ragazza italiana. Nella tasca anteriore dei jeans del ragazzo albanese sono stati rinvenuti 7 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato alla prefettura di Vicenza per la detenzione di sostanze stupefacenti. Loria. Rientrando con quattro amici da un'escursione sul Monte Teorna, sopra la valle del Schievesin, nel Bellunese, un 65enne di Loria ha avvertito un malore e non è stato più in grado di nuoversi. Lanciato l'allarme poco prima delle 11, il 118 ha inviato un elicottero di treviso d'emergenza. Giunti sul posto, l'equipaggio ha calato il tecnico dello il soccorso con un vericello di 25 metri. Portato al campo base, dove gli sono state prestate le prime cure da medico e infermiere, l'uomo è stato infine accompagnato all'ospedale di Treviso. E ora andiamo a Schio. Ritrova la sua bicicletta rubata dieci mesi dopo il furto. La segue e con l'aiuto della polizia locale riesce a recuperarla. È accaduto ieri pomeriggio, dopo la segnalazione di un cittadino, proprietario di una mountain bike sparita nel luglio dello scorso anno, gli agenti del consorzio polizia locale Alto Vicentino l'hanno rintracciata in via Cavour e denunciato per ricettazione in 50 anni del posto che vi si trovava in sella.